Alessandro Massi, consigliere con delega alla Cultura, giovedì 11 e venerdì 12, due giornate molto importanti per la Biennale dell'Umorismo. Si inizia giovedì con la celebrazione dei 30 anni della Compagnia dell'Arancia. Sì, abbiamo sempre detto che questo è un po' l'evento simbolo della nostra estate, ma proprio l'evento simbolo che caratterizza Tolentino a livello internazionale, d'altronde la Biennale internazionale dell'Umorismo, e quest'anno abbiamo deciso di fare un collegamento molto forte con delle realtà locali come la Compagnia dell'Arancia. Abbiamo ritenuto che anche nel musical ci fosse una connotazione umoristica nei vari personaggi, nella musica, nell'organizzazione dello spettacolo, che è nato a Tolentino grazie a Savero Marconi e da Tolentino si è sviluppato a livello nazionale e internazionale, quindi abbiamo ritenuto che nella nostra prima serata dell'11 luglio, a cui naturalmente invito tutti a partecipare, soprattutto i tolentinati, noi ci teniamo particolarmente che stiano con noi in piazza a celebrare Savero Marconi, celebraremo appunto i 30 anni della Compagnia. Savero Marconi si racconterà, ha preparato uno spettacolo bellissimo, alle 18 di giovedì inaugurremo la mostra Il Castello d'Arancia, con tanti inediti, con costumi, con scenografie, che è visitabile dall'11 fino al 6 ottobre, naturalmente con un provo che è anche previsto e si andrà bene, e poi la sera saremo in piazza per celebrare Savero Marconi e saremo a vedere questo meraviglioso spettacolo. Il venerdì invece ci sarà questa anteprima nazionale, un unicum, solo pochi comuni, Tolentino e uno di questi, celebrerà i dieci anni della morte di Alberto Sordi. Verrà il nipote e con lui racconteremo Alberto Sordi un sacco di immagini, racconteremo i suoi film, come sono nati i suoi film, il rapporto con i registi. Promeriggio invece inaugureremo le due mostre principali della Biennale, oltre a quella della Compagnia d'Arancia, l'Ineis et Coloribus a Palazzo Bezzi, che era dedicata alla scuola romana agli anni 30. Poi inaugureremo la mostra della Biennale con il vincitore in primis, Gubus Musa, il turco, artista turco, che abbiamo avuto l'onore di premiare. Premieremo venerdì sera appunto in piazza e siamo contentissimi che questa connotazione internazionale sia rimasta, che abbia vinto un turco, anche se gli italiani fanno parte della classifica finale. Siamo contentissimi di ospitare un artista non italiano che venga dalla Turchia. Oltre alla premiazione di Gubus Musa, anche la premiazione della vetrina che ha allestito nel miglior modo la celebrazione di Alberto Sordi. Cos'è questa iniziativa? Ci siamo inventati questa iniziativa Metti i sordi in vetrina. Vale a dire, premeremo il commerciante o comunque l'esercizio commerciale che ha avuto l'idea più bella dedicata a sordi. Abbiamo ritenuto che fare solo una serata, benché un'anteprima nazionale, non avrebbe avuto molto senso. Abbiamo sempre detto che la Biennale deve essere una cosa di tutti, sentite da tutti i cittadini. In primis abbiamo ritenuto che i commercianti sono la prima accoglienza che si ha a Tolentino quando si arriva da fuori, o comunque anche per i tolentinati, le loro facce, le loro vetrine, no? Sono un po' il salotto della città, quelli del centro storico. Ma non solo. E quindi abbiamo ritenuto che i commercianti dovessero essere parte interrante di questo grande progetto della Biennale e di questo spettacolo Alberto Sordi. Quindi li abbiamo messi in competizione, puntando un po' sulla loro creatività, sulla loro voglia di fare, e ci sono dati da fare, vedrete, no? Tutte le vetrine avrete visto in questi giorni, le vetrine adibite a Alberto Sordi.